Buongiorno Friuli, benvenuti in una nuova edizione della nostra segna stampa sportiva, anche di domenica siamo qui per raccontarvi tutto sul mondo udinese, tutto ciò che racconta la carta stampata. Allora partiamo dal messaggero veneto che apre con il mercato udinese, calcia bomber, Mitroglu, il problema è l'ingaggio, quanto pare le intenzioni e le attenzioni della società sono orientate sul bomber greco che ha giocato nell'Olimpia Costa, nel Panatinole Costa un passato anche in Premier League, potrebbe essere lui l'attaccante che cerca l'udinese, il problema però è appunto l'ingaggio. L'attaccante greco guadagna infatti 2 milioni a stagione e ha il contratto fino al 2018, lo cercano anche Sassuolo e Fenerbahce, sarebbe sicuramente un attaccante di spessore internazionale per l'udinese che sta cercando una punta, non è un mistero che la volontà della società bianconera è quella di ingaggiare un attaccante di peso, bisogna però cercare quelle che sono le occasioni del mercato. Mitroglu a quanto pare ha un ingaggio evidentemente troppo alto, leggiamo anche soltanto l'incipit dell'articolo a firma di Massimo Meroi, la calcia bomber è sempre più complicata per l'udinese, lo dicono i numeri o i soldi se preferite, quelli che servono per acquistare il cartellino dell'attaccante ma soprattutto quelli dell'ingaggio che una punta di valore chiede per accettare la proposta dei Pozzo. Da poco più di 24 ore viene abbinato al nome dell'udinese quello dell'attaccante greco Costantinos Mitroglu, 27 anni, di proprietà del Fulham e che nell'ultima stagione ha indossato la maglia dell'Olimpia Cos, trattasi di giocatore di alto livello, ha segnato 16 gol in 24 gare nel campionato greco, più due in Champions League e una in Europa League. Ecco come vi dicevo è un attaccante di spessore internazionale però ecco c'è il problema del suo ingaggio. Ci sono comunque già le alternative, le presenta anche il messaggero Veneto, andiamone a vedere. Uno è John Guidetti, un giocatore del quale abbiamo parlato spesso nel corso anche delle nostre trasmissioni, l'ultima stagione al Celtic di Glasgow, va tra l'altro appena segnato contro l'Italia in europeo Under 21. Lo svedese è forse giocatore di maggior talento tra i candidati alla maglia bianconera, di proprietà del Manchester City e in scadenza di contratto su di lui, ci sono già tante squadre. Un altro giocatore molto interessante è il Gallo Belotti, è il più giovane del Plotone, sembra aver già trovato l'accordo economico con l'Atalanta che adesso deve trattare il suo acquisto con il Palermo. E infine poi il grande amore, lo possiamo definire così dell'Udinese perché oramai si parla di lui praticamente da due anni, Duvan Zapata, il colombiano ha dalla sua l'abitudine al calcio italiano, è un ingaggio che non è impossibile da sostenere per le casse bianconere. Il problema però resta sempre il Napoli che non ha grandissima voglia di privarsene, bisogna vedere però adesso con il nuovo allenatore se Sarri lo riterrà funzionare al suo modulo. Benitez l'ha voluto trattenere a tutti i costi, con Sarri la situazione potrebbe cambiare. L'Udinese ovviamente ritroverà alcuni giocatori adesso, dal fine prestito torneranno qui in Friuli tanti atleti, Niccolò Lopez è uno di questi, Niccolò Lopez che potrebbe tornare a giocare in Uruguay, in Italia lo cerca il Frosinone che ha fatto un sondaggio anche per Faraoni e il Palermo. Niccolò Lopez in Uruguay sembra una scelta un attimino affrettata per quanto riguarda il talento ex Roma che ha disputato comunque una stagione positiva al Verona, sì tra alti e bassi ma ha dimostrato di poterci essere in questo calcio, nel calcio che conta, tornare in Uruguay sembrerebbe essere davvero una mossa affrettata. Ha parlato poi anche Magda Pozzo, l'ha fatto ad Udinese Channel, cambiamo un attimo argomento, Magda Pozzo che ha ribadito come il Watford non sia la priorità dell'Udinese, a me dispiace molto, quando leggo sento dire che la priorità della nostra famiglia si spostano in Inghilterra per la Premier League, siamo tutti qui a Udine e stiamo facendo un grande lavoro per lo stadio e per la società e vogliamo portare avanti i progetti per la città di cui siamo immensamente fieri e orgogliosi, speriamo con l'aiuto di tutti di far crescere lo stadio che deve diventare l'orgoglio, non solo è la nostra regione, deve essere un esempio, un modello in Italia e in Europa. Queste le parole della dottoressa Magda Pozzo che ha fatto bene a ribadire quella che è la volontà della società udinese, spesso si parla di un Watford in Premier League che potrebbe catalizzare le attenzioni alla famiglia dall'altra parte del continente, però a quanto pare la volontà dell'Udinese, come dimostra quella struttura che sta venendo su all'arco dei Rizzi, la volontà della famiglia è quella di creare una grande Udinese e soprattutto una grande casa per questa società. Ancora poi si parla di mercato con l'Inter che ufficializza Condogbia, superato il Milan che sembrava favorito e i rossoneri rischiano di perdere anche Jackson Martinez, altro mercato, il City rinuncia a Pogba e punta su Wilshire, sul francese restano Real, Barcellona e Paris Saint Germain. Berratti vorrebbe lasciare Parigi, Perotti invece dice no all'offerta del Watford, però sembra che nelle ultime ore sia aumentata la proposta economica per il Genova, vedremo se Diego Perotti andrà effettivamente al Watford oppure no. L'Under 21, l'Europeo, l'Italia costretta a vincere per rimanere in corsa, gli Azzurrini in campo alle 20.45 contro il Portogallo, servono i tre punti, stangata su Sturaro, squalificato per tre giornate dopo la manata a Isshak. L'altro girone, la Germania super, il poker poi dei ciechi, dunque volano Germania e Repubblica cieca, l'Italia invece si affida a questo signore qui, a Domenico Berardi, autore già di più di 30 gol in Serie A in appena due stagioni, un giocatore sicuramente molto molto interessante e nell'orbita della Juventus potrebbe restare al sassuolo su di lui. C'è già un caso di mercato, le parole di Di Biagio, sono convinto che possiamo arrivare lontano, ma la partita di stasera sarà decisiva per il passaggio del turno. Italia, che lo ripetiamo, ha perso incredibilmente la sua prima partita, la partita d'esordio contro la Svezia, era in vantaggio in superità numerica dopo appena 20 minuti, si è lasciata recuperare e poi c'è stata la rimonta definitiva firmata proprio da Guidetti, giocatore in orbita udinese. Adesso bisogna assolutamente vincere con il Portogallo e poi con l'Inghilterra. Cili a Balanga, l'Uruguay pareggia, si parla anche di Coppa America, quattro giornate di squalifica a Neymar, il suo torneo è già finito, Neymar paga cara la testata a Murillo e la pallonata nella schiena ad una nostra vecchia conoscenza. Pablo Armero, continuiamo a sfogliare il messaggero Veneto, la Cainero già sente aria di Olimpiade e c'entra il bronzo, parliamo dei giochi europei di Baku, la campionessa di Pechino è salita sul podio, l'altra azzurra Biancosi-Argento con record mondiale. A Baku, emozioni olimpiche per Chiara Cainero, ai giochi europei. In Azerbaijan la tiratrice di Cavalico ha conquistato un magnifico bronzo nello skit individuale al termine di una gara quasi perfetta. La Friulana della Forestale ha subito un piccolo calo di concentrazione in semifinale in cui ha centrato solo 14 piattelli su 16. La piccola distrazione l'ha penalizzata impedendole così di giocarsi loro. Nella finale per il bronzo la super mamma Chiara ha però tirato fuori il meglio e ha colpito tutti e 16 i bersagli. Score perfetto. Medaglia assicurata, è stata una gara di altissimo livello, un buon punto di partenza per l'europeo, queste le parole. Di Chiara Cainero, quando mi sono trovata nel villaggio olimpico mi sono venute in mente tante cose, con tre olimpiadi alle spalle i pensieri sono tanti, che il clima fosse particolarmente sentito, lo si era già capito nei giorni precedenti alla gara. La tiratrice di Cavalicco aveva inviato tante foto agli amici a casa per rendere i partecipi dell'atmosfera, impianti e strutture nuovissime in cui Chiara ha fatto le prove per le olimpiadi brasiliane del prossimo anno. Su questo campo tornerò anche nella prossima stagione in Coppa del Mondo. È stato utile prendere confidenza. Tutte le atlete ieri hanno dato il meglio e ne è conseguita una gara di altissimo livello. E noi non possiamo che unirci ai complimenti per la grandissima Chiara. Poi si parla di il piccolo Edoardo che bacia la mamma sullo schermo, il figlio di Chiara davanti alla tv, numerosi gli amici che hanno fatto il tifo da lontano. Anche questa è una bellissima storia di sport in diretta su Sky, i giochi di Baku. Ovviamente hanno catalizzato le attenzioni della famiglia Cainero. Troppo caldo, poi la Cecchini è solo undicesima per quanto riguarda il ciclismo. La campionessa italiana si perde nel finale. Ratto invece è quinta. Oggi tocca ai uomini del CT Cassani. Spazio anche al Kayak con Daniele Molmenti che abbiamo anche intervistato qui su Udinese Channel. Abbiamo dedicato uno speciale, grandissima carriera per lui. Troppi errori ma è il settimo posto in Coppa. E' comunque buono nel Molmenti che resta uno degli orgogli di questa regione. Ci spostiamo adesso sul gazzettino del Friuli. Pagina sportiva anche qui. Ovviamente si parte con l'Inter e con Dogobia. Noi però parliamo di Udinese. arriva Zucanovic che torna possibile. L'Udinese spera nel colpaccio. Zucanovic terzino del Chio Verona che ha disputato un'ottima stagione. Potrebbe dunque disputare la prossima. Queen Friuli in attacco. Tre sono i nomi. Guidetti, Simone Pepe e Mitroglu. All'anno invece potrebbe valere 15 milioni di euro. Il brasiliano resta sempre in orbita Napoli che però ieri ha ufficializzato Valdifiori. Zucanovic è possibile. L'Udinese invece spera nel colpaccio. Pezzo a firma di Marco Agrusti che parla appunto di una rottura clamorosa. Quella che potrebbe esserci tra Erwin Zucanovic e l'Inter. perché l'Inter sembrava praticamente averlo acquistato qualche mese fa. Tutto doveva essere solamente messo nero su bianco. Invece adesso potrebbe esserci la rottura clamorosa. L'esterno sinistro Bosniaco che pareva già un giocatore nero azzurro. Invece così non è perché tra le club di Toira e i veronesi c'è ancora distanza economica. L'Inter gioca a ribasso offrendo al Chievo un milione e mezzo di euro più il riscatto di Schelotto. I Veneti non ci sentono e adesso aprono di nuovo all'Udinese. Eccola la svolta per la fascia sinistra bianconera. Uno dei punti deboli su cui deve intervenire la proprietà per accontentare il nuovo tecnico Colantoro. Zucanovic ora torna più che possibile. Per bruciare definitivamente l'Inter serve alzare l'asticella a 2 milioni. Almeno una cifra che i Pozzo potrebbero sborsare. Questa è la situazione per quanto riguarda il bosniaco Erwin Zucanovic. E' comunque pronto su quella fascia Edenilson. Il brasiliano che ha disputato un'ottima stagione con il Genova di Gasperini. Conquistanno anche l'Europa che poi non è arrivata per questioni burocratiche. Edenilson tornerà in Friuli. Sembra definitivamente chiusa la telenovela Edenilson. L'esterno destro in prestito al Genova. Rientrerà all'Udinese senza che il Grifone tenti di piazzare un'offerta per farlo restare all'ombra della lanterna. Colantuono dunque avrà una freccia in più a sua disposizione. Importantissimo chiudere per Edenilson. Che come vi dicevo è stato uno degli esterni migliori. Forse all'intero campionato per qualità e costanza di rendimento. Ritrovarlo in Friuli il prossimo anno è un colpo importante. La vera sfida poi il manager punta quota 18.000 abbonamenti. Si parla di stadio. Si parla di stagione della svolta nell'ambiente bianconero. E dovrà esserlo non solo sul campo ma anche e soprattutto sugli spalti. Tifo raffreddato, quasi congelato. Quello dell'anno scorso. Una tribuna che ha smarrito l'innamoramento per i colori bianconeri. E che a tratti ha fischiato sonoramente. Ecco perché la prima partita da vincere sarà quella degli abbonamenti. L'ha detto neanche tanto tra le righe il project manager del nuovo stadio Friuli Alberto Rigotto. Su 25.000 posti ha annunciato il dottor Rigotto. Vogliamo avere 18.000 tessere in attesa del colpo di mercato in grado di far impennare le vendite. Ma arriverà, si chiede il gazzettino. La campagna abbonamenti 2015-2016 inizierà con i primi giorni di luglio. Quando saranno resi noti dalla società i prezzi aggiornati per la stagione futura. La novità ovviamente è l'allargamento delle possibilità con l'apertura dei distinti e della curva nord. Sono le due componenti del nuovo stadio che potranno ospitare i tifosi bianconeri già dall'inizio della stagione. I lavori procedono spediti, installate le prime poltroncine e i due settori appaiono già praticamente pronti. Comunicate nel frattempo le date relative alla prossima stagione. Il campionato inizierà il 23 agosto mentre la prima sosta per le nazionali si avrà il 6 settembre. Gli altri step sono in programma l'11 ottobre, il 15 novembre e il 27 marzo. Sosta natalizia del 27 dicembre al 3 gennaio. Turni infrasettimanali il 28 ottobre e il 3 febbraio quando a Udine sarà aperta anche la curva sud. Questa è la situazione per quanto riguarda il nuovo stadio. Abbiamo letto per intero l'articolo del gazzettino perché assolutamente merita parlare del nuovo stadio in costruzione. Ieri poi vi abbiamo anche mostrato la novità per quanto riguarda le poltroncine in Curva Nord nel settore di Stinti. Un tocco di colore che sicuramente balza immediatamente all'occhio ed è anche la dimostrazione che i lavori continuano anche nei giorni festivi. Davvero non si ferma mai la costruzione di questo gioiellino che ospiterà l'Udinese nella prossima stagione. Si parla poi anche qui delle parole di Magda Pozzo, la figlia del patron, ha parlato di progetti importanti per la città. Ipozzo nel pallone ma sempre a Udine. Anche qui vengono riprese le parole della dottoressa ai nostri microfoni. Il Watford non è la priorità, anzi resta Udine e l'Udinese. Anche qui poi si parla di altri sport con Molmenti in finale in Coppa del Mondo. Settimo posto per lui nel kayak, l'atleta pordenonese attraverso questo settimo posto è riuscito a guadagnarsi la finale. Il suo coach dice di averlo visto bene. Il coach Matteo Appodia ha fatto una gara semplice, senza rischi. In ogni caso abbiamo avuto il riscontro del livello di preparazione che ha raggiunto. E facciamo a Molmenti un in bocca al lupo per una eventuale vittoria finale. Ci spostiamo adesso sulla gazzetta dello sport che apre con l'Inter. Scatenata sul mercato va all'Inter il primo derby della stagione 2015-2016. quello che viene giocato al di là del rettangolo di gioco, quello che viene giocato tra gli alberghi e con i procuratori, quello del calciomercato, quello di Goffri con Dogbia. Inter scatenata, sorpasso a Monte Carlo, il primo derby è Nerazzurro. Soffia Rossoneri, il talento del Monaco con Dogbia per 40 milioni. E Tohir può regalare a Mancini pure Giannelli Ibula, giocatore del Marsiglia. Davvero scatenata l'Inter, che a sorpresa anche, praticamente dal nulla, ha tirato fuori una cifra importantissima. Parliamo di 40 milioni di euro, il terzo acquisto più costoso nella storia dei Nerazzurri. In un periodo di recessione economica, di fair play finanziario, davvero ha stupito tutti. Goffri con Dogbia, 22 anni, 188 cm e 80 kg di potenza e tecnica, ha giocato con l'Ans, Siviglia e Monaco. Con Dogbia, dunque, arriva all'Inter. Per Paolo Condò si tratta di tanti soldi ma ben spesi. Non ha senso chiedersi se Con Dogbia valga la montagna di euro che l'Inter ha investito su di lui, perché è un giovane, non si acquista soltanto per ciò che ha già fatto, ma anche e soprattutto per le aspettative di crescita. La domanda giusta è un'altra. Può diventare il perno di un'Inter competitiva? La risposta è sì. Questa è l'opinione di Paolo Condò. In taglio alto, la Coppa America, Uruguay solo pari con il Paraguay, si qualifica la squadra di Vampiri su Uruguay, va ai quarti col terzo posto. Il Cile, invece, per Dona Vidal, che si è reso protagonista di un evento sicuramente increscioso, l'incidente con la sua Ferrari da ubriaco, ne è venuto fuori assolutamente in leso, però ha rischiato tanto. Anche la presidente Bachelet si schiera con lo Juventino, osannato dai tifosi, tutti con Arturo Vidal. Il Cile ci crede nella vittoria della sua prima Coppa America, tra l'altro si gioca in casa, lo ricordiamo sempre. Il Brasile, alle 23.30, giocherà senza Neymar e deve vincere, tra l'altro Neymar, che ha praticamente già salutato la competizione, per lui quattro torni di squalifica dopo la testata a Murillo. Non ci sono più speranze di vederlo nel corso di questa competizione. Jackson Martinez sembrava destinato al Milan, invece l'incubo dei rossoneri, scippato all'Atletico. Ora cerca bacca il Milan, sicuramente non un momento semplicissimo per i rossoneri. Il retroscena, il denaro di Mr. B non arriva, però adesso ci pensa Fininvest. Occhio Milan, che è passato per il 48% a Mr. B. Mr. B, touchable, il magnante cinese, che però finora non ha ancora sborsato un euro. E rompi i palloni e già negli occhi, per iniziare col sorriso la giornata. Matrimonio amaro per Llorente durante la cerimonia, il momento di baciare la sposa, gli è subentrato Morata. Riferimento alla continua staffetta tra Llorente e Morata nel corso della stagione, a quanto pare si va avanti anche fuori dal rettangolo di gioco in argomenti che poco centrano con il calcio. La Formula 1 in Austria, dove tra l'altro è anche il nostro Maurizio Ferrari, Super Hamilton ancora in pollo, poi Rosberg, ma Vettel è lì. Quindi il gran premio che si corre a pochi chilometri da qui, oltre il confine. La Superbike, con Biaggi che parte quinto a Misano, va a caccia del podio. La trattativa di calcio nel mercato con la Juventus in pressing su Jovetic, se dice sì, avrà la numero 10. L'europeo, Sturaro stangato, l'Anders gioca tutto con il Portogallo, tre giornate di squalifica per il centrocampista della Juventus, dopo la manata che l'ha reso protagonista contro la Svezia. Dicevamo di Kondo Gubià, arriva nella nostra Serie A un nuovo campione, questa è una notizia che non può che far felice, con gli appassionati di calcio, perché la Serie A torna ad essere un campionato competitivo, grazie all'acquisto di questi giocatori. Kondo d'Oro, scrive la Gazzetta, il derby all'Inter per 40 milioni, Milan-KO in volata, giornata di colpi di scena, Kondo Gubià dice sì a Galliani e poi sceglie il club di Toir domani. Le visite mediche, ha avuto davvero dell'incredibile, la giornata di ieri tra Inter e Milan sembrava fatta praticamente per i rossoneri, che aspettavano già Kondo Gubià a Milano per la firma del contratto, invece l'Inter ha continuato a insistere e alla fine l'ha portato a casa. Questa è la foto dell'arrivo di Galliani a Monaco, merdi pomeriggio, amministratore delegato rossonero, accompagnato da Anelio Lucas, arriva nel Principato per dare il via agli appuntamenti con i manager di Kondo Gubià e il Monaco. Tutti insieme appassionatamente, questa è una foto quasi storica direi, allora di cena al ristorante Cipriani, si incrociano tutte le parti, Galliani e Lucas in un tavolo, Ausilio Fassoni, procuratore del giocatore, e Badim Basilieb, vicepresidente del Monaco, in un altro. Tutti insieme alla fine la spunteranno in erazzurri. Eccola qui il momento della firma tra Goffri, Kondo Gubià e l'Inter con il direttore generale Marco Fassone che siede di fianco a Kondo Gubià per l'autografo sul contratto quinquennale che legherà il giocatore all'Inter per davvero tanto tempo, 5 anni il massimo che può prevedere la durata di un contratto. La cifra, 33 le partite ufficiali nella scorsa stagione con il Monaco tra campionato e coppe con la Gubià, dunque che arriva all'Inter e che potrebbe continuare però a fare shopping in Francia per Mancini e pronto in Boulat con il francese chiusura vicina poi gli affari in uscita perché l'Inter a questo punto dovrà fare necessariamente cassa Kova, Cicce 2, Traguarin, Hernanes e Juan Jesus. Vediamo come cambia la formazione dell'Inter nella prossima stagione con l'acquisto di Kondo Gubià la gazzetta lo presenta così tra certezze e obiettivi Andanovic, Montoya che è un obiettivo Murillo, Miranda che sono già acquistati e Santon che invece è uno dei pochi giocatori che resterà nella formazione titolare dell'Inter rispetto all'anno scorso centrocampo con Nogobià e in Boulat con Kovacic tra parentesi Kovacic che però potrebbe essere il sacrificato per far cassa Salah addirittura come esterno alto di destra è un giocatore che interessa tanto all'Inter Shakiri che dovrebbe finalmente trovare spazio dopo i primi sei mesi in erazzurro tra alti e bassi Palasio dall'altra parte è in attacco unica punta Maurito Icardi fresco fresco di rinnovo il Milan invece rischia di perdere anche Jackson Martinez ha davvero del clamoroso questa due giorni rossonera perché sembrava fatta per Martinez sembrava fatta per Kondo Gubià alla fine non arriverà probabilmente nessuno dei due sicuramente non Kondo Gubià l'Atletico invece è andata forte sull'attaccante colombiano per il Milan è un incubo e un sabato nero l'Atletico gli soffia Jackson appena venduto Manzuki c'è la Juventus i Colcione i rossi si sono fiondati su Jackson Martinez strappando il sì del colombiano ora l'accordo con il con Mr. B è in discussione l'alleanza anche con il fondo Doyen i dubbi sono sul ruolo di Lucas che è questo signore qui ricordiamo che la FIFA ha vietato i fondi di investimento c'è da capire come si muoverà il Milan in questo senso cattivi rapporti tra Lucas advisor di Mr. B e Pedrom e Orge Mendes perdon l'agente di Jackson Martinez hanno pesato il no a Manzuki la sponda sbagliata su Kondo Gubià le pecche del guru del fondo non è iniziato benissimo questo percorso di Lucas con il Milan Jackson ha deciso di lasciare il porto per il Milan ha detto Pinto da Costa il 12 giugno Jackson Martinez il 15 io rosso nero sono solo voci non ne sono sicuro alla fine con grande probabilità sarà dell'Atletico Madrid doppia beffa ecco il piano B Bacca Luis Adriano e Witzel fallito l'assalto a Kondo Gubià e il colpo di scena nella trattativa per il colombiano obbligano Galliani al cambio di rotta e sfida la Roma per la punta piace anche il giocatore belga che è anche in orbita Juventus chiudiamo sempre parlando di Milan poi velocemente sulle altre prime pagine dei quotidiani il tuo sorretto è di Fininvest aspettando i milioni di B Galliani può pianificare il mercato con un budget stanziato dalla holding i soldi del TAI ancora non ci sono dovrebbero arrivare entro 6 settimane la chiave Berlusconi è pronto a ricapitalizzare per altri 90 milioni dopo i 60 di marzo gli ultimi flop di mercato aumentano i dubbi sul ruolo del fondo Doyen andiamo adesso sulle prime pagine del Corriere dello Sport è tutto sport ovviamente si parla del colpo con Dago Bià vince l'Inter il derby di mercato in erazzurro 38 milioni al Monaco 4,2 l'anno per 5 stagioni al centrocampista e adesso parte l'assalto a Salah il Milan nel frattempo è sotto shock dopo il francese rischia di perdere anche Jackson Martinez in taglio alto la Juve Berardi e Sassuolo un altro anno dunque per il Corriere lo sport Domenico Berardi resterà in Emilia in Golan è a un milione dalla Roma Roma che lo deve riscattare dal Cagliari e poi ecco Valdifiori grazie Napoli tieni Higuain dall'Empoli insieme a Sarri arriva anche il centrocampista che ha 29 anni dunque assapora il grande calcio Neymar servono uomini non bambini questa la parola di Dunga che attacca la stella dopo la squalifica l'Under 21 sfida Under al Portogallo se non vince quasi fuori e poi il basket in finale Sassuoli spreca tanto ma piegareggio e 2 a 2 tutto sport anche qui apre con una volta tanto per una volta tanto non con la Juventus ma con l'Inter con Nogobia Inter e Galliani sta a dieta i nerazzori vincono il derby per il francese pagato 35 milioni le tante cene non portano fortuna all'amministratore delegato Rossonero che adesso rischia di perdere anche Jackson Martinez in orbita Atletico Madrid in taglio alto la Juventus caccia all'Oscar scatta l'operazione fantasia il brasiliano in cima alla lista dei desideri ed era al Toro fa 8 milioni la mossa è quella per portare al Torino Vessino e poi da non perdere l'Under 21 si gioca l'Europeo Fernando la Samp va all'attacco ai Giampaolo smontano l'Empoli tutti via e poi Neymar ha già finito 4 giornate di squalifica queste le notizie flash lanciate da Tutto Sport noi siamo in chiusura abbiamo parlato del mercato dell'Udinese che cerca una punta siamo concentrati sul nuovo acquisto dell'Inter il colpaccio che è quello di Goffri con Dogobbià che va ad arricchire come qualità la nostra Serie A a me non resta che salutarvi e augurarvi buona domenica e ancora una volta buongiorno a Friuli a l'Udinese a l'Udinese a Grazie a tutti